ciao ragazzi ben ritrovati sul canale in questo video voglio parlarvi di altre pescate inedite che ho effettuato in norvegia questo video è improntato su una specie di pesce molto particolare che avete già avuto modo di conoscere in un video che ho fatto da un ponte ho preso questo bellissimo scorfano artico in realtà è più simile ad uno scazzone ovvero questa specie che abbiamo anche nei nostri torrenti di simil scorfano che in norvegia del nord raggiunge anche dimensioni ragguardevoli una specie bellissima nonché piuttosto rara rispetto a cod che è la specie il merluzzo nordico più comune in assoluto in norvegia del nord infatti con sigurd tante volte siamo andati a pesca alla ricerca di nuove specie e puntualmente ci troviamo a prendere merluzzi di continuo senza vedere la minima ombra di un'altra specie però ogni tanto lo scorfano artico veniva a trovarci le pescate che state per vedere sono state girate in inglese perché parlando con sigurd l'unica lingua che avevamo per comunicare era l'inglese però vi lascio la traduzione che potete vedere aggiungendo i sottotitoli al video vi lascio alle pescate buona visione sì, lo so, soprattutto ora abbiamo un'ora di luce, magari meno magari meno, magari meno, f*** però proviamo, proviamo, proviamo 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 oh, fisch? è un'escalpin? probabilmente no, fisch perfetto questo è perfetto questo è perfetto questo è perfetto questo è perfetto norvegiano stile oh, scopin è è è oh 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 è un'escalzato sì è un'escalzato molto fischo è ha un'escalzato è è bellissimo è bellissimo è bellissimo guardate il spaz 120 grammi sì ok puoi puoi rilassare è è ok perfetto è è un'escalzato non è non è un'escalzato non è? non è? non è non è non è è un'escalzato è un'escalzato non è magari è un'escalzato è potrebbe essere un'escalzato sull'escalzato qui sì f*** sì guardate ok ok sì ho scelto il truffalo ma è meglio magari allora ti metti il truffalo che è che cazzo se ci ci vediamo non ho questo è un'escalzato se questo è molto grande è un'escalzato ma ok io mi sono è un'escalzato no ho spero un'escalzato un'escalzato è un'escalzato di certo l'escalzato è un'escalzato chi come le cazzo ho un fischio, sul fischio ma è un cod non è piccolo e è un cod per sicuramente è così piccolo sono grigli sono molto grigli buon cod con un morto vediamo let's cast again sì, non è un buon cast sì, proviamo con il pezzi con la grande fischio come questo sì no, non ci sono let's hope for the best, for the place i want a flat fish f***, i miss the bite fisch sì sì non è buon non è buon non è buon non è buon flat fish non è buon ma non lo so è difficile dire e si 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 Oh God They swallow the bait so Difficult Fish, but it's a cod for sure It's strange it could be a flatfish But it's a cod Not so small either like yours and he swallowed hook Let's release him I'm not going to take it Perfect then you need to just take more shimpam No, I would put a say Or say of course Only cod You can't escape the cod here in the north Fish Oh, this is bigger Yeah, this is bigger In my dreams, it's a place It's a cod No, it's a big one I might go to the rocks to rescue it We have to land this from the rocks It doesn't look too bad A kilo? 1.5 1.5? Oh It's a bit skinny here But it's okay Yeah We will keep this guy With the shrimp They are more active now with the darkness Yeah I think we are going to land more of them Because of course they're a regular species Yeah And I will go We have more activity now than yesterday No doubt No doubt Yeah Yeah, this is less than a kilo Yeah But that's cool Of course a cod Let's see Of course What is that? Oh A whiting Sigurd I caught a whiting With an entire cowfish That's interesting That's a whiting Yeah Awesome Oh, maybe it's a flat fish It looks like a whiting From here Yeah It's a whiting Nice Yeah Is it good for bait? It could, yeah actually it is Okay We will keep it I'm Norwegian, you know No You don't have to die for a cod If this moves, I have the space Yeah I think it's okay Thank you Sigurd I've done it for There we go Okay And that's a small one No, not so small Ah, it's this It's like one kilo? Yeah, I think so And do you want to keep this guy? Maybe Jakob Like 1.3 Yeah, maybe Thank you Sigurd Fish Another small cod But we can't escape from cod Yeah, fish Oh, it's fighting strange Maybe it's a whiting Maybe whiting or a haddock It looks like a pretty good half-biting actually Yeah Not bad It's really fat actually Usually they are more slim And this one is like Big Fett Elvete, what the f**k That's a big one Oh, Jesus That's a big scorpion fish Wow Wow That's 400 gram Let Maybe 500 That's not the record Yeah Yeah Big one It's a normal milk Guys, I'm excited Oh, big scorpion Stanky Wow With the shrimp Yeah, shrimp Very good Awesome It's over 30 centimeters Actually 30 30 and a half Yeah, around that That's a big one Oh, it's that big Oh, it's that big Oh, it's that big It's half a kilo Half a kilo 406 grams What a beautiful fish It works It works You think it's nice Yeah Yeah Good That's a beautiful catch It's the biggest one I've seen Guys, finally a fish that is not a cod This evening He came to find me This is the Sculpin Arctic Sculpin Preso con il gambero E tra i mille cod di ogni sera Un bellissimo esemplare Questo sarà sui duetti Bellissimo Bellissimo Ora lo liberiamo Lasciamo questa bellezza Farai un piccolo salto ma starai bene Con la neve Spettacolo Bellissimo lo Sculpin Articolo L'avevo già preso ma mai così grosso L'avevo preso quell'altra volta che stavo Dal ponte Però a parte quello Soltanto cod in questa serata Di forti nevicate Ragazzi ne ho preso un altro Un altro stavolta con un jig E un pezzo di gambero sotto Che figata Bello pure questo Vedete Semplicissimo Jig Giuglo da 40 grammi Innescato con un gambero E anche lui Si è fatto ingannare Adesso Metto la GoPro al petto E voglio vedere se riesco A fare un video decente Magari sotto la luce Quella è stata una delle ultime pescate Che ho fatto in Norvegia Come avete visto Le pescate con L'avanzare della stagione Quindi verso dicembre Si sono svolte praticamente Soprattutto di notte Proprio per la notte artica E dopo aver catturato Questi due scorfani Con jig e escavera Poi non sono riuscito A catturare altro che cod Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un like E se vi va Iscrivetevi al canale Perché ogni giovedì Alle 14 Ci sarà un nuovo video Di avventura di pesca E tra l'altro Sto programmando Delle uscite di pesca Che spero Saranno epiche Per cui Noi ci rivediamo Alla prossima Ciao